Nello spirito della Spending Review, anch'io vorrei tanto che venisse creata una commissione di inchiesta e lo sapete su quel finanziamento milionario, ma davvero milionario, che venne fatto dal governo alcuni anni fa per creare un sito per la promozione turistica dell'Italia nel mondo. Un finanziamento assolutamente spropositato, anzi considerato tale da chiunque operi seriamente e con competenza nel mondo delle cosiddette nuove tecnologie. Mi piacerebbe tanto che si indagasse sulla effettiva necessità di un finanziamento così milionario per raggiungere un risultato davvero insignificante.